Se io capisco che c'è la competizione devo muovermi in maniera diversa ma se io so che la competizione ha un livello medio di bravura che equivale allo stato sterco so che io se gioco bene paradossalmente dici cazzo loro due l'hanno approcciata loro due l'hanno approcciata loro due l'hanno approcciata se io arrivo e approccio in maniera diversa in maniera migliore, in maniera più efficace paradossalmente acquisisco 100 volte di più il valore si perché fai proprio un gioco di contrasto perché molta gente approccia di merda approccia senza condizioni di causa approccia da dietro approccia ubriaco eccetera eccetera le ragazze li respingono arrivi tu oh mio dio grazie un uomo che effettivamente sa come si fa e quindi per assurdo fai proprio ti aiutano le persone che non stanno approcciare ti aiutano a valorizzarti ancora di più ai suoi occhi grazie a tutti